Amanti di Clash of Clans, in questo periodo di update non c'è solo quello, ma c'è una marea di tornei e oggi vi vado a presentare la Snapdragon Pro Series. Vamos! Iniziamo col dire che la Snapdragon Pro Series è la serie di tornei competitivi e-sport multi-game più grande al mondo per dispositivi mobili. Stanno davvero rivoluzionando il mondo del competitivo, non solo in Clash of Clans che ci riguarda da vicino, ma per tantissimi giochi mobile. Abbiamo la possibilità di competere e diventare qualcuno all'interno dell'e-sport di Clash of Clans, quindi vi accompagnerò all'interno del sito internet e vi farò vedere come funziona il torneo, quali sono le date e ovviamente iscrivetevi a questo torneo, mi raccomando! Ed eccoci sul sito ufficiale Snapdragon Pro Series by ESL. Basta scendere un po' per trovare proprio i giochi interessati in questa serie di tornei. Cliccando su Euro e Mena, che è la zona di riferimento, la nostra che siamo italiani, troviamo Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale, PUBG e Asphalt Legend. Basterà cliccare ovviamente su Clash of Clans, scendere un pochettino e boom! Price Pool 60.000 dollari per questo torneo, che oltre questo mette a disposizione un Golden Ticket per la World Championship. Ma scendiamo nel dettaglio del funzionamento del torneo, che è suddiviso in due ladder. Il primo ladder si è già giocato dal 12 al 29 di aprile, mentre il secondo ladder inizierà il 10 di maggio. Consiste in tre settimane di scontri e si giocherà tre volte a settimana, martedì, giovedì e venerdì. Le prime classificate di ogni ladder accederanno automaticamente alla Challenge Season, mentre dal secondo al nono posto si accederà alle Open Finals. Le Open Finals, gli otto team, competeranno in un bracket a doppia eliminazione per determinare i tre team, che invece accederanno alla Challenge Season. Dal 15 di giugno al 6 di luglio si disputerà la Challenge Season con gli otto team qualificati, che è un vero e proprio campionato in cui ogni team affronterà gli altri 7 e i migliori 4 avanzeranno alle Challenge Finals. Le fasi finali del torneo saranno in doppia eliminazione e verranno programmati i campioni per ogni regione di appartenenza. E allora, cosa stai aspettando? Inizia ad organizzarti e registra il tuo team alla Snapdragon Pro Series. Anche se non parteciperai potrai comunque seguire il torneo, infatti lo porteremo in live. Quindi continua a seguirmi sia qui su YouTube ma anche su Twitch, su Discord, su Instagram, su Twitter e tutti i social ufficiali. Ci vediamo presto con un prossimo video o una prossima live. Vamos! Ciao!